Oggi abbiamo 393 amici, iscriviti e se vuoi invia una foto all'indirizzo in descrizione e verrà pubblicata e sarà menzionato come uno dei nostri grandi amici. Frase giornaliera, due cose ci salvano nella vita, amare e ridere, se ne avete una va bene, se l'avete tutte e due siete invincibili, ieri, la guerra, indovina, si imbocca sempre, ma non mangia mai, cos'è? E ora sigla. Mi chiamo Miss Famesa e sono felice di averti nel mio canale, se ti piace chiacchierare tra amici sei nel posto giusto, guarda il video metti un like poi scrivi nei commenti e rispondi, noi trattiamo gossip, ultime notizie, i reality come GF VIP, Isola dei Famosi, Temptation Island, Uomini e Donne eccetera, pubblichiamo tutti i giorni se ti interessa torna a trovarci ti aspettiamo, ora pubblicità che fa bene al cuore e alla fine l'elenco degli amici che hanno eviato la foto. GF Ciao amica o amico, ti va di guardare altri video clic sul filmato scelto, se ami il gossip in social noi pubblichiamo video tutti i giorni, è stato un piacere averti qui, torna a trovarci ti aspettiamo.